Torna in campo la quarta serie dopo lo stop previsto per la disputa del torneo di Viareggio lo scorso weekend. Domani, tra i quattro anticipi dell'ottava di ritorno, c'è FC Matese-San Nicolò-Notaresco. Si giocherà alle 15.30, una sfida che si prospetta combattuta tra due compaggini che non vogliono mancare l'appuntamento con la vittoria. L'ultimo risultato ottenuto dalla squadra di Mister Urbano è stata la convincente prova casalinga contro il Castelfidardo, la doppietta di Daniele Napoletano per il 2-1 finale sui marchigiani ha proiettato i verde oro a 35 punti in graduatoria e riscattato la precedente battuta d'arresto di Castelnuovo-Vomano. Ora la formazione campana è in piena zona franca, ma la cavalcata alla salvezza non è ancora terminata. La graduatoria del raggruppamento F è molto corta e ogni sfida, da qui al termine della regola season, sarà fondamentale. Il notaresco a quota 38 punti si presenterà sul sintetico di Piedimonte con l'obiettivo di accaparrarsi un posto nella griglia playoff. Focus, a dire il vero, perseguito a singhiozzo dagli abruzzesi nel girone di ritorno. Due sole vittorie, l'ultima sul Fano, che porta la firma del molisano Vittorio Esposito, e quella di tre giornate fa, il 2-1 sul Porto d'Ascoli, ad intervallare i piloghi meno convincenti. La truppa guidata dal tecnico Massimo Epifani tenterà il tutto per tutto per dare una sversata positiva alla stagione, ma i matesini non si faranno trovare impreparati, pronti anche loro a riscattare la sconfitta di misura dell'andata. Galesio e compagni sono in un buon momento di forma e avranno dalla loro il fattore casa. Il Ferrante rappresenta un vero e proprio punto di forza ed è pronto ad accogliere l'affiatato pubblico di Piedimonte, chiamato anche domani a sostenere i propri colori. Un ambiente, quello del comprensorio matesino, in continua crescita. La società sportiva dilettantistica polisportiva matese ha acquisito la maggioranza assoluta delle quote societare del football club matese, con le cariche della società calcistica che sono rimaste invariate. È un importante passo avanti per l'intera area matesina. Mister Urbano ed il suo staff tecnico hanno preparato al meglio il ritorno in campo, confermato l'intero reparto difensivo con del giudice, che vestirà la casacca numero uno, i difensori centrali Congiu ed Albanese e i due terzini Sisca e Setola. Agiranno dinanzi a loro Ricciardi, Ricamato e Masi in luogo di Fabiano, a completare l'undici iniziale il tridente composto da Calemme, Galesio e Napoletano. Allo stadio Ferrante di Piedimonte sarà il signor Vito Guerra di Venosa a dirigere la vincente match tra FC Matese e San Nicolò Notaresco.